Alla luce dei recenti rinvenimenti archeologici in piazza San Giustino, cosa cambierà per la tempistica della riqualificazione dell'area? Allora, non cambierà nulla. Ho parlato con la sovrintendenza alle belle arti e al paesaggio. L'urna funeraria rinvenuta con Suppelletti li verrà ovviamente recuperata e insieme con la testina di Venere che abbiamo già recuperata verrà messa in un apposito locale che diventerà un museo per le cose ritrovate in piazza San Giustino. E quindi i tempi, quindi la pavimentazione, le luci e quant'altro seguiranno i tempi previsti, ovvero sia la piazza dovrà essere ridata alla cittadinanza per il mese di giugno 2022. Speriamo insieme con l'assessore Rispoli di abbreviare di un mese questo periodo e quindi fare sì che la cittadinanza possa passeggiare su questa piazza per la festa del patrono. Aspetto al progetto iniziale, questa variante 2 definitiva per il progetto dell'equalificazione va a cambiare lo scenario della piazza. Innanzitutto partiamo dalla modifica dell'illuminazione all'interno della piazza dove verranno eliminati i due pali centrali e saranno sostituiti con dei fari a LED sia sui palazzi del Palazzo di Giustizia, sia sul Palazzo Municipio e sia sui palazzi che sono intorno alla piazza, il Palazzo Sirolli, il Palazzo di Di Luzio e il Palazzo Mezzanotte. Rispetto a queste modifiche noi abbiamo intenzione di ridare la piazza alla città modificata, soprattutto su alcuni aspetti decorativi.